iniziamo questo video con un aggiornamento di michael crizzo che è già qualificato per il mistero libia come ben saprete io sono dell'idea che quest'anno ripeterà se non migliorerà la sua prestazione dell'anno scorso perché appare già molto molto definito lui un bodybuilder che ci ha fatto vedere grandi cose soprattutto su instagram poi anche battuto andrea presti in spagna qualificandosi per il mistero olimpia con una prestazione nobile io inizialmente un po scettico su lui poi mi sono ricreduto a furia di vederlo e devo dire che mi sembra molto molto in condizione chiaramente mancano meno di tre mesi al mistero olimpia quindi è anche opportuno che ci si inizi a preparare seriamente però rispetto ad altri bodybuilder mi sembra già più avanti con la preparazione sarà anche perché ha già gareggiato però chiaramente tralasciando il fatto che questa most muscular sia mostruosa si vedono dei bei dettagli nel petto e del toadie ottima vascularizzazione poi si vedrà ancora meglio quando fa la crepe la posa del granchio quindi io mi aspetto buone cose da lui cioè mi aspetto una top ten quasi al cento per cento cioè penso che anche voi pensiate lo stesso credo che sia un bodybuilder da top ten non dico dato fai però secondo me tra l'ottavo il decimo posto ci può stare tranquillamente non è esente da punti deboli come tutti i bodybuilder soprattutto i glutei che sono un po troppo piccolini e i dorsali però anche tante buone pose cosa c'è lo stesso è incredibile e qui si vede un po la vascularizzazione definizione le striature nei del toadie oltre che una densità disumana nel petto però dicevo mi fa piacere che sia già messo così bene a livello definizione quindi spero che migliori quanto fatto l'anno scorso e che migliori anche la abbronzatura che l'anno scorso era color statuetta degli oscar sembrava proprio la statuetta degli oscar aggigantata cioè on steroids troppo dorato e poco bronze o comunque passando ad altro andrea muzzi gareggerà a milano tac ha pubblicato questo aggiornamento di una most muscular sembra decisamente molto molto definito almeno basandoci su questa foto sembra l'andrea muzzi più definito che abbiamo mai visto da quando gareggia però chiaramente sappiamo bene che parla il palco e non parla instagram ma questo non per screditarlo e denigrarlo ma perché così è una cosa che vale per lui così per tutti gli altri e poi scrive nel post che la prima foto del 21 agosto 118.8 kg poi 30 agosto 119.8 kg praticamente un chilo in più però sembra molto più definito non so che tipo di stregoneria sia questa comunque il progresso sembra decisamente nobile poi purtroppo per lui non penso ci sia possibilità di vittoria ma c'è una gara talmente competitiva anche e nonostante il fatto che gut vitto abbia fatto il pacco che non penso che siano speranze di vittoria per muzzi però sarà sicuramente una prestazione interessante anche per lui che non ha gareggiato quest'anno questo è un site tricep anche questo abbastanza nobile sembra che ci siano delle ottime striature un bel po di definizione nella parte bassa e anche nella parte alta ma soprattutto la separazione da quale civica femorale forse il pettorale è un po flat non è particolarmente pieno però potrebbe essere anche dato da una scarica di carboidrati qui fa vedere anche lui anzi no anche lui fa vedere i glutei che non ci ha fatto vedere mica il crizzo decisamente più più nobili di quelli di crizzo comunque non so se sia inutile questa gara per lui perché comunque penso che siamo onesti c'è gente troppo cazzuta per lui come per gli altri bodybuilder cioè penso che non reagan grimes ma anche non lo so niente di ascia un blessing a wadibu siano lontani per per muzzi così come per altri bodybuilder che ci sono quindi non so se vi ha fatto bene o meno a gareggiare questa è una storia che ha pubblicato il suo coach del progresso delle gambe che sono molto molto nobili quindi se andate a milano fate una buona cosa perché è una gara molto molto interessante anche senza il buon vito poi chiaramente ricordate promoter che mi devono pagare per la promozione di questa gara è passando d'ugisi in fundo a samson d'auda la domanda è può vincere mister olimpia cioè io penso che se porta la definizione potrebbe anche fare il colpaccio ma il punto è che lui non è stra ultra definito quando aveva già sono sempre dell'idea che abbia assimetria nei dorsali tra tutto tra il sinistro e il destro sinistra non mi sembra un po più piccolino e in più di servire un po più di ampiezza nei dorsali perché il vt per c'è le spalle sono larghe la vita stretta mantiene lo stomaco in controllo però secondo me gli manca un po di carne nei dorsali e c'è un po di asimmetria tra il sinistro e il destro cioè io questa cosa noto in ogni cazzo di foto e video che vedo poi mi dice l'angolazione è la luce è come ha messo la luce quando fa la posa boh non lo so io questa cosa noto sempre però può vincere mister olimpia potrebbe anche vincerlo cioè ha fatto dei passi da gigante in questi anni e qui vedete il beck latred e anche qui secondo me si nota un po la simmetria tra i dorsali poco poco più piccolo quello sinistro rispetto al destro guarda soprattutto la parte di carne nella lower back che non è chiaramente dorsale però sempre quella zona quindi se porta la definizione potrebbe anche farcela però se ti scontri con adi chupan e del clan sport che di definizione sono abbastanza gli otti è difficile è difficile quindi stiamo a vedere quando garaggeranno tutti e tre insieme e spero di un call out con due tre persone non con 6 7 persone come l'anno scorso buona e e e